Signore, se posso... Sentiamo. Quest'operazione potrebbe causare molte vittime. Procediamo comunque. Si tratta dell'operazione militare più rischiosa che io abbia mai sentito! Lei propone una missione suicida? Io combatto per vincere. Entreremo un'ora prima del tramonto. Fuoco! Quante pensa che siano le possibilità di vittoria per gli americani? Neanche una. Cosa vuole dimostrare? Questa non sarà la mia ultima battaglia. Lui vuole compiere un miracolo. La resistenza nemica sarà forte, ma affronteremo la sfida con coraggio. Prevediamo un attacco sul fronte del fiume Nakdong. Dicono che dobbiamo guadagnare la fiducia di Lim Gui. Operazione Chromite. Fantastico nome. Questa è la ca�' Ate Ate Grazie a tutti